Venezia batte Pescar 2-0, atteggiamento lo abbiamo detto, lo ripetiamo completamente sbagliato, baricentro basso, squadra che si è consegnata all'avversario sugli sviluppi di un calcio d'angolo completamente regalato da Bellanova, arriva il vantaggio, angolo di Tugurdo e tocco sfortunato nella propria porta di Sorensen tra qualche protesta perché il danese potrebbe essere stato spinto alle spalle da un giocatore del Venezia, ma il Luzzi di Molfetta convalide il gol. Nel primo tempo ti aspetti una reazione del Pescara? Assolutamente no, squadra completamente fuori fase, non crea neanche un'opportunità, anzi su un erroraccio di Scognamiglio, è Bocalon che ha esaltato Fiorillo che ha mandato in corner per il possibile 2-0. Nella ripresa tre cambi subito del tecnico Breda perché entra Setera al posto di Odgard e entra Balzano al posto di Sorensen e Nenzita al posto di uno spento Masciangelo. L'atteggiamento è leggermente cambiato nel senso che il Pescara prova a essere un po' più alto, poi il tecnico Breda si mette a due in mezzo con Valdifiori e De Sena, Alza, Tabanelli sulla linea di Macin, poi cambio anche in mezzo un po' più di sostanza con Omeunga al posto di Valdifiori, dentro anche Caponeve abbassando addirittura Tabanelli sulla linea dei due centrocampisti per mettere qualità, ma sul cross, sullo sviluppo di un calcio d'angolo completamente perso, Modolo firma il 2-0. Il Pescara, come detto, negli ultimi dieci minuti crea più pallegole di quanto non se ne siano viste dalle due squadre nell'arco dei primi 75 minuti perché Scognamiglio su una punizione battuta da Macin e salta Pomini che manda in corner una conclusione secca di Tabanelli, sfiora il palo, poi la trattenuta ai danni di Seter, calcio di rigore ineccepibile ma Seter calcia alle stelle e nel finale colpo di testa di Seter a servire Scognamiglio che sostanzialmente consegna il pallone tra le braccia di Pomini. Finisce 2-0 con la panchina di Breda che è a rischio.